Ciao a tutti, io sono il Dilan Drogofilo, oggi recensione dell'album mensile numero 160 Il Druido, che troviamo anche all'interno della grande ristampa numero 54 con copertina creata per l'occasione da parte di Corrado Roi una copertina diciamo sufficiente dove troviamo bene o male il paesaggio dove si svolgerà l'intera avventura quello che è il Druido, anzi quello che sembrerebbe essere il Druido perché in realtà la faccia non è questa e Dilan in una posizione tendenzialmente goffa, quindi copertina non particolarmente avvincente invece Angelo Stano, qui poi troviamo anche la copertina originale di Angelo Stano propone questa storia da un altro punto di vista, quindi in copertina va a ricreare quello che sarà invece l'altro lato della medaglia quindi il rito che compie questo Druido per far crescere i campi della madre terra forti e rigoriosi quindi due prospettive da parte di due artisti differenti che vanno a raffigurare in copertina due diciamo prospettive diversificate tra di loro mentre testi e sceneggiatura di Pasquale Ruglio e disegni di Giovanni Freghieri una storia che mi è piaciuta perché sia Pasquale Ruglio sia Giovanni Freghieri offrono nuove prospettive nelle loro rispettive arti, ovvero quella dello stile narrativo e quella del disegno quindi due artisti che mostrano quasi un lato inedito di sé andiamo a vedere in che modo, prima vi racconto un po' la trama Dilan viene chiamata in un paesino di campagna poco fuori da Londra per diciamo catturare questo assassino che si chiama il Druido una leggenda locale, sarebbe praticamente un uomo brutto e cattivo che di notte si aggira per queste campagne inglesi e semina panico e terrore tra la popolazione sacrificando vite umane per far crescere di giorno in giorno i campi di grano sempre più rigoriosi quindi la madre terra per diciamo offrire i suoi frutti alla terra e alle coltivazioni necessita di sacrifici umani quindi Dilan viene chiamato da un signore anziano per catturare quest'uomo sulla base di alcuni indizi che vengono rilasciati prima dal cliente e poi da alcuni cittadini locali tutto questo ci viene narrato da parte di Pasquale Ruggia attraverso un flashback un flashback che però non si presenta noioso ma si presenta più in stile cinematografico un flashback che dura ben 60 pagine in queste 60 pagine praticamente Pasquale Ruggia costruisce la storia intorno e dopo finito il flashback di 60 pagine si entrerà proprio nel vivo della vicenda una volta che il lettore avrà capito proprio tutto il senso della storia riuscirà a sua volta a trovare anche di per sé alcuni indizi che porteranno alla soluzione finale quindi molta immersività che trova il lettore in questa storia con dei tocchi di sceneggiatura davvero particolarmente riusciti anche qui queste prospettive che sembrano quasi tridimensionali opera di una sceneggiatura davvero ben realizzata e dei disegni che vanno a completarsi con questa sceneggiatura in maniera davvero buona dunque chi è questo druido? una storia che riesce a creare molta suspense dove i personaggi sono stati davvero ben orchestrati Pasquale Ruggia infatti riesce a destreggiarsi con circa una decina di personaggi e riesce a celare della retroscena dietro ognuno di questi personaggi quindi ognuno di queste comparsi in questa storia avrà più o meno una doppia vita, una doppia identità che verrà svelata al momento opportuno in questa vicenda quindi caratterizzazione dei personaggi molto presente, molto convincente che va a dare un tocco di classe in più alla storia un tocco di vivacità in più quindi questo vecchio che ha assunto Dylan ha in realtà diciamo delle rivalità con la famiglia principalmente indiziata che è quella dove Dylan andrà a cercare indizi all'inizio quindi Dylan viene spedito in una casa poco di fuori di questo paese dove incontrerà una famiglia di agricoltori che forse ne sanno di più su questo fantomatico druido ma attenzione Dylan verrà catturato da questa famiglia perché è scambiato per un ladro e questa famiglia che rinchiude Dylan perché sa troppo infatti Dylan ha scoperto anche che praticamente questa famiglia ha a che fare con qualche vicenda riguardante al druido quindi Dylan sa fin troppo e praticamente riesce però a scappare riesce a trovare una via di fuga in questa prigione dove è stato rinchiuso e riesce a completare e a risolvere il caso cosa nasconde questa famiglia in particolar modo nel corso del grande incendio c'è stato un grande incendio in questa campagna è morto un ragazzo giovane ma è quello che vogliono far credere nella leggenda del druido non è mai morto nessuno per caso infatti questa famiglia diciamo va direttamente ad ammazzare la gente fa finta che non sono morti e ammazzati ma che siano state degli incidenti e a questo punto utilizzano questi corpi come detto prima per compiere dei sacrifici alla madre terra così che i campi possano crescere forti e rigoriosi una volta che Dylan scopre tutto ciò riesce a far fuori tutti questi brutti cattivi ovviamente non è che prende la pistola Bodeva a sparargli ma in una situazione di pericolo riesce ad usare un'ottima autodifesa diciamo riesce anche ad arrangiarsi utilizzando oggetti pervenuti qua e là in mezzo ai campi quindi Dylan si dimentica per l'ennesima volta la pistola ma riesce comunque a difendersi quindi una volta che le carte sono state messe sono state scoperte e che la storia diciamo una volta che viene fatta chiarezza e luce su tutto ciò la storia si conclude con diciamo la rivelazione del vero druido chi è questo druido per l'esattezza non si sa perché non è solamente uno sono più o meno come una confraternita uno di questi druidi era la mamma della famiglia di cui Dylan viene fatto prigioniero poi però questa donna in realtà fa parte anche come detto poco fa di una specie di sette quindi anche il capo della polizia del paese che fa finta di aiutare Dylan è comunque implicato in questi sacrifici alla madre terra e poi il maggiordomo del cliente da cui Dylan viene assunto fa parte anche lui di tutto questo giro insomma come al solito tante tante persone che inaspettatamente fanno parte di brutti giri della malavità locale che in questo caso si presenta sotto forma di druido quindi diciamo in questo campo dell'agricoltura si presenta sotto forma di rituale per sanificare diciamo la terra ed offrire aiuto alla madre terra molto impressionante questa diciamo questa spiazzante queste spiazzanti vignette finali dove davvero con grande impatto attraverso la sceneggiatura di Pasquale Gurria da disegni molto buoni Giovanni Fregheri viene ben pronunciato un ottimo finale che va a concludere nel migliore di buoni la vicenda dunque una storia ben articolata con dei personaggi che sanno giocare il loro ruolo con dei doppi e tripli giochi e disegni Giovanni Fregheri che vanno a diciamo completare questa vicenda davvero nel migliore dei modi disegni Giovanni Fregheri che sono diversificati soprattutto dal punto di vista dei volti dei personaggi di solito siamo abituati ad un Giovanni Fregheri che utilizza più o meno sempre gli stessi tratti sui volti dei personaggi come sapete alcune volte le femmine assomigliano purtroppo a Dylan Dog dei volti che non convincono a pieno ma questa volta Giovanni Fregheri compie un ottimo lavoro e ogni personaggio avrà una sua caratteristica espressione avrà un volto davvero differente soprattutto proprio dal punto di vista dei lineamenti stessi quindi Giovanni Fregheri che questa volta riesce ad offrire un tratto convincente soprattutto sui volti dei personaggi non c'è un personaggio uguale ad un altro ossia dal punto di vista degli occhi, della bocca, del naso insomma Giovanni Fregheri che compie un notevole salto in avanti purtroppo forse finora solamente in questa avventura Giovanni Fregheri che poi riesce ad interpretare una sceneggiatura davvero ben stesa da parte di Pasquale Ruglio Pasquale Ruglio che crea anche dei dialoghi in determinate situazioni molto umani dei dialoghi che vanno praticamente anche solamente attraverso la carta ad accennare, a mostrare delle emozioni davvero molto toccanti al lettore quindi in determinate situazioni i dialoghi appaiono particolarmente vivaci particolarmente vivi sembra proprio di stare dentro allo fumetto e questa non è una cosa da poco, non accade molto spesso Pasquale Ruglio che è riuscito anche ad offrire in termini di trama ma davvero una storia molto avvincente sulle 98 pagine concludendo invece con i disegni di Giovanni Fregheri vi dicevo la particolarità di questa storia si ritrova per l'appunto nei volti per il resto disegni buoni come al solito e nelle situazioni notturne perché questa storia si svolge praticamente di notte quasi interamente di notte nelle scene notturne davvero ottimi giochi di luce anche grazie alla luce vera e propria della luna che va a incidere sul terreno, sui personaggi e in generale davvero in maniera molto molto buona quindi Giovanni Fregheri che sa destreggiarsi molto bene anche con i giochi di luce anche nelle situazioni in cui Dylan ad esempio è rinchiuso in questa cella davvero la luce che filtra leggermente dalla finestra viene ricreata davvero molto molto bene ultima nota poi chiudo il tutto ritorniamo sui testi di Giovanni Fregheri che è forse l'implementazione di Graucio Graucio che appare in questa storia di solito Graucio fa un'entrata lampo nelle varie storie di Dylan Dog e poi sparisce invece qui no Graucio è presente praticamente dalla prima all'ultima vignetta dell'albo però non fa altro che dire battute quindi Graucio che non andrà ad aiutare particolarmente Dylan nella soluzione del caso al contrario di quanto è successo altre volte in altri albi quindi quello che voglio dire è che Graucio è presente fortunatamente in questa storia a livello proprio di comparsa visiva che troviamo attraverso i disegni di Giovanni Fregheri ma non è presente dal punto di vista dei dialoghi quindi un po' come quando si va a scuola che si è presenti col fisico ma non con la testa ecco qui una cosa simile dove Graucio è presente fisicamente perché viene disegnato all'interno di questa storia ma non ci regala purtroppo dei dialoghi particolarmente riusciti si limita solo a dire qualche battuta quindi un Graucio un pochino inutile che però comunque troviamo in questa avventura ecco questa è una nota forse l'unica nota tendenzialmente negativa di questa storia tutti i personaggi sono stati davvero implementati davvero bene tranne Graucio che appare ma non lascia il segno ecco questo è quello che volevo dire voto finale diciamo dal 7 all'8 per il momento è tutto se questo video ti è piaciuto condividilo dove vuoi con chi vuoi iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog e noi ci vediamo in una prossima video recensione dedicata al mondo dell'indagatore dell'incubo e noi ci vediamo in una prossima video